Via Edera 22, zona Quezzi. In questo lembo di via genovese prenderà vita a breve un progetto pilota di coesistenza fra immigrati e persone anziane. Il tutto gestito dal CEIS, che ha avuto dal comune di Genova la responsabilità di gestire la struttura. L'edificio in questione è questo che vediamo nelle immagini. Si tratta di Casa Buozzo, circa 2000 metri quadri di calpe stabile, il tutto circondato da altri 4000 di verde. Originariamente lo stabile fu addibito alle opere della divina bontà, che la utilizzavano sia come convitto sia come scuole per ragazzi. Quasi 2 milioni di euro serviranno per ristrutturare l'edificio affinché possa essere utilizzato allo scopo. Fondi questi che dovrebbero arrivare dalla regione Liguria, dall'Europa, con l'aiuto di sponsor per coprire le spese. Insomma, il tempo passa, le cose cambiano, il processo di integrazione deve andare avanti. Lo ha detto anche il sindaco della città metropolitana genovese Marco Doria, in una recente intervista sul tema dell'immigrazione. Dicendo che i muri vanno abbattuti e non eretti. Ecco allora montare la protesta di cittadini e residenti della zona che non ci stanno a questa ipotesi di casa sociale.